Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui in questo nuovo video per il pronostico di Shakhtar Donetsk Napoli. Prima partita del girone di UEFA Champions League e noi ora l'andremo a pronosticare. Ragazzi nel pronostico di oggi non c'è Michele perché io tra poco dovrò uscire e quindi non siamo riusciti ad organizzarci per un incontro per poter fare il video. Ovviamente ritornerà dal prossimo pronostico. Detto questo andiamo con il pronostico. Eccoci ragazzi andiamo con la partita. Intanto alzo un po' il volume. Ragazzi questa è la partita. Queste sono le formazioni e andiamo. Vediamo un po' questi giochetti che io poco so fare. Ah questo è quello della porta piccola. Vediamo se l'ha in carro. L'ho incarrato. Il nostro capitano Marek. No? Ok ragazzi. Andiamo con la partita. Eccoci. Si parte. Shakhtar Donetsk Napoli. Ferreira. Attenzione per Tyson. Tyson attenzione. Subito. Molto pericoloso. Lo ferma Goulam. Che va indietro da Reina. Goulibaly. Goulibaly va da Giorginio. Sbaglia qui. Perde il controllo. Attenzione a Marlos. Grande intervento di Goulibaly. E' buona per Amsic. Amsic va da Insigne. Vai Lorenzo. Lorenzo. Posizione regolare per Mertens. Vai in mezzo Callejon. Mertens. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto da Lorenzo. In mezzo per Allan. Ed è subito 1-0. Grande calcio d'angolo battuto da Insigne. In mezzo per Allan. Che di testa la mette dentro. 1-0 Napoli. Dopo 9 minuti. Ecco subito Mertens. Vai Mertens. 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 Supera tutti. Mertens. La parata di Biato. Ha segnato Allan ragazzi. Anche nella realtà è davvero in grandissima forma. Intanto altro calcio d'angolo. Battuto sempre molto bene da Insigne. Il tiro di testa di Goulibaly è deviato. Ancora un altro calcio d'angolo. Callejon. Salvano i difensori dello Shakhtar. Rimessa laterale battuta da Goulam. Callejon va da Isai. Isai va indietro da Goulibaly. Goulibaly. Non so cosa ho fatto qui. Non ha direzionato il passaggio. Sbaglia Goulibaly. Goulibaly c'è rimessa per lo Shakhtar. Attenzione a Tyson. Amsic va indietro da Reyna. Reina per Albiol. Giorginio. Giorginio vede Insigne sulla fascia. Supera il suo diretto avversario. Poi vede Mertens fermato in scivolata. E poi Fred recupera palla a Giorginio. Attenzione a Tyson. Tyson grande intervento qui di Goulam. Eccolo Amsic. Eccolo Amsic. Vede Callejon libero sulla fascia. Callejon ha visto Amsic. Vai Marek. Marek il tiro. Fuori. Il rinvio di Piatob. Serna il capitano dello Shakhtar Donetsk. Attenzione a Fred. Stefanenko. Stefanenko recupera palla a Giorginio. Giorginio resiste anche all'intervento in scivolata. Voi Amsic per Insigne. Vai Lorenzo. Insigne torna indietro da Amsic. Amsic il tiro. La parata di Piatob. E poi spazza Serna. Poi Allan di testa per Goulam. Goulam per Allan. Allan qui sbaglia il passaggio. Recupera palla Marlos. Tyson. Qui grande anticipo di Albiol. Poi Giorginio per Isai. Koulibaly. Allan. Per Isai. Isai vede Mertens. Mertens indietro per Amsic. Ti ho visto Allan. Vai Allan. Allan. Mamma mia che giocata. Allan il tiro. La parata di Piatob. Poi Mertens. Posizione di fuorigioco. Ma cosa ha fatto lì Allan ragazzi? È davvero in palla Allan ragazzi. Come nella realtà. Attenzione. Marlos. Qui sbaglia lo stop. Ma poi la prende comunque. Attenzione. La palla è sulla fascia a Ferreira. La chiude Koulibaly. Cross in mezzo di Ferreira. E poi allontana Giorginio. La palla è in signe. Vai Mertens. 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 Vede dall'altro lato Callejon. Callejon la ridà a Mertens. Mertens. Fermato da Stefanenko. Che poi spazza. Amsic di testa per Koulibaly. Koulibaly per Isai. Isai per Allan. Allan qui sbaglia il passaggio. Recupera palla lo Shakhtar. Che poi la restituisce ad Allan. La palla è a Mertens. Vai Ciro. Vai Ciro. Vai Ciro. Ci prova da lì. Il tiro è respinto. Poi Ismaili per Tyson. Quarantacinquesimo minuto. Due minuti di recupero alla fine del primo tempo. Ferreira. Attenzione. Attenzione. Pericoloso. Posizione di fuorigioco per Bernard. Che forse è proprio il giocatore di più fantasia. E che può più essere pericoloso dello Shakhtar Donetsk. Comunque ragazzi. Finisce qui il primo tempo. Siamo in vantaggio per 1-0 con Allan. Vantaggio meritato. Si parte con il secondo tempo. Koulibaly per Goulam. Vai Goulam. Goulam sulla fascia passa d'Insigne. Che viene fermato da Serna. Attenzione a Marlos. Fred. Fred. Cusher. Pressato da Giorginio. Ma poi riesce a superarlo. Attenzione a Cusher. Grande recupero di Allan. Poi la riprende Ferreira. Bravo qui sai. Poi Giorginio sbaglia qui il passaggio. Ma c'è... Calcio di punizione contro di noi. Perché? Bah. Comunque Stefanenko la batte allontano. No non riesce ad allontanare Koulibaly in rimpallo. E qui abbiamo rischiato. No Reina cosa fai? Cosa ha fatto qui Reina? Perché ha spazzato così forte? Attenzione a Tyson per Fred. Bravo qui Giorginio. Poi Amsic per Insigne. Attenzione. Ora stiamo commettendo un po' di ingenuità. Allontana al biolo di testa. Poi Allan per Callejon. Bravo qui Callejon. Attenzione. Attenzione. Non siamo entrati molto bene in questo secondo tempo. Attenzione. Serna la mette in mezzo. Allontana Koulibaly di testa. Poi Giorginio per Insigne. Vai Lorenzo. Vai Loren... Ragazzi. Dai ora basta. Stiamo commettendo un po' troppi errori ora. Dall'inizio di questo secondo tempo. Attenzione a Tyson. Vai recupera la palla Isai. Recu grande Koulibaly. Grande. Reina ha visto Isai. Isai e basta sbagliare questi passaggi così. Attenzione. Fred. Ed. Bravo qui al biolo. Poi Isai vede Callejon. Callejon per Giorginio. Amsic per Goulam. Goulam per Insigne. Bravo qui. No. Sbagli. Qui Kuscher anticipa Allan. Ma poi recupera il pallone Goulam. 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 Il tiro è bloccato. E poi spazza il difensore dello Shakhtar. Koulibaly di testa per Isai. Giorginio. Insigne. Insigne. Vai Lorenzo. Vai Lorenzo. Bravissimo. La palla è a Mertens. 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 Rigore. Rigore ragazzi. C'è stato il fallo di mano del difensore dello Shakhtar sul tiro di Mertens. Sul dischetto Insigne. Parte Insigne. Centrale la parata di Piato. Ragazzi i rigori qui sopra poco li so tirare. L'attirata centrale è stato facile per Piatov pararla. Devo imparare un po' meglio a tirare questi rigori. Attenzione. Attenzione ora Fred. La potevamo chiudere. Attenzione la palla indietro. Vai Mertens. Ratischi poi spazza. Di testa Goulam non ci arriva. Ma poi ci arriva Amsic. Per Koulibaly. Albiol. Isai. Isai. Bravo qui Isai per Callejon. Callejon ha visto Mertens. Vai Driss. Vai Driss. Mamma mia cosa ha fatto. Mertens il tiro. Tutti in piedi ragazzi. Ciro. Driss. Mertens. Ma che gol ha fatto. L'ha messa nel set. Che giocata. E che gol. Di Ciro. Driss. Mertens. 2-0 Napoli. E andiamo così. Mamma mia che gol di Mertens. Eccolo ancora Mertens. 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 Supera tutti. Mertens. Mertens. Fermato da Serna. Attenzione a Marlos. Bernard. No. No. È solo Bernard. È solo Bernard. E c'è il gol dello Shakhtar. Qui non so perché eravamo così aperti. Si è trovato da solo Bernard. Non so come. Comunque 2-1. Al novantesimo. Vediamo quanti minuti di recupero verranno concessi. Vai Goulam. Per Insigne. Insigne vede Giorginio. Giorginio per Mertens. Fermato da Kuscher. Finisce qui ragazzi. Vinciamo 2-1 contro lo Shakhtar Donetsk. Ragazzi ho vinto per 2-1 in questo pronostico contro lo Shakhtar. Ovviamente speriamo che andrà con una vittoria per noi anche nella realtà. Sarebbe importantissimo cominciare questo girone con una vittoria fuori casa. Detto questo ragazzi io vi saluto. Ci vediamo alla prossima e sempre Forza Napoli.